Per Notte Senza Tempo, quella del 2024, è l'edizione della continuità. Nella giornata europea della musica antica, giovedì 21 marzo, si aprirà la sesta edizione del Festival Internazionale Notte Senza Tempo, alle 19 nella chiesa di San Pietro in Silchi, a Sassari. L'associazione Dolceacenti, questa mattina alla Camera di Commercio di Sassari, ha presentato un programma ricco di appuntamenti, masterclass ed importanti novità. Siamo dati come obiettivo quello dei 5 anni. Allora, quello della continuità è investire altrettanti per dare continuità al lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni. Questa è un po' l'idea. E infatti, come quest'anno, essendo la sesta edizione, tra le novità, come dicevo poc'anzi in conferenza stampa, è quello di ampliare il periodo da marzo fino a ottobre e consorziare sempre più comuni che si affacciano con molto interesse a questo genere di musica, a questo, alla nostra organizzazione, perché devo dire che l'entusiasmo che si trova nei comuni nei confronti di questo genere di musica è veramente una cosa bella. Nelle precedenti collaborazioni i nostri studenti hanno partecipato attivamente, sia in gruppi strumentali che come solisti. E quindi anche quest'anno i nostri studenti avranno modo di poter usufruire di queste bellissime serate musicali, oltre che come spettatori, anche come, diciamo, soggetti attivi. Basilica di San Gavino, che è il gioiello architettonico della nostra città, del nostro patrimonio storico-archeologico, ospiterà appunto l'esecuzione di questo inedito a metà luglio e ospiterà anche un'importante masterclass due giorni dopo, il 16 di luglio, che sarà un'occasione importante in cui i nostri giovani musicisti potranno approcciarsi a un genere che forse è molto meno lontano di quanto possiamo immaginare dal gusto e dalle passioni del nostro mondo culturale attuale.